Con un semplice clic, ogni cittadino potrà monitorare in modo del tutto trasparente tutti i posti disponibili alle ore 8 del mattino per prestazioni sanitarie, classi di priorità e area vasta di interesse, struttura per struttura. Lo ha annunciato il governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, nel corso di una conferenza insieme al presidente della Commissione Sanità, Fabrizio Volpini, per illustrare l'ultima novità in ordine di tempo dell'operazione di azzeramento delle liste di attesa messe in campo dalla Regione Marche. I risultati dicono che stiamo ottenendo quei valori straordinari già confermati alla fine dell'anno, ma la cosa veramente interessante è che facciamo un salto di qualità sulla trasparenza delle disponibilità, cioè grazie al fatto di poter pubblicare ogni mattina tutto quello che verrà offerto nella giornata per ogni tipo di priorità, quindi breve, differita, programmata, in ogni territorio, quindi per ogni area vasta, per ogni attività specialistica. Cioè il cittadino potrà la mattina presto, collegandosi al sito con un semplice clic, poter sapere la prestazione di cui ha necessità o di cui è interessato durante la giornata, quante ce ne sono, dove sono, come sono distribuite. Quindi il massimo di visibilità, il massimo di trasparenza, perché attraverso questo meccanismo lo permettiamo a tutti quanti, non solo di poter godere di una prestazione, ma di poter guardare il quadro di quello che viene offerto. Per accedere alle informazioni basta collegarsi al sito www.regione.marche.it slash tempi di attesa e cliccare alla voce disponibilità CUP, quindi inserire i dati relativi alla prestazione richiesta e alla priorità.